No 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 va bene, tu basta che ci controlli la porta Aurelio eh Ma questo è abbastanza forte, non dicevo niente per fare Si si ma è quello che stavo facendo prima io eh Se ti dico play era la tua porta tu basta fai sulle scale e lo apri in due Non si muove quello, quello sta aspettando che rifanno la tua compagna, tu ne hai capito? Ma a quel lato dove cazzo sono Alberto Agnese e quegli altri? Ma stanno la chiusa, non mi ha capito Ma porca odia, stanno a fa bordella dall'altra parte Eh speriamo che il maschio sia un pedicolo, se non va di dove è Ah vedo che cazzo sta adesso, su te No mare Ah chi vince l'idea proprio Va beh, andavo a morire a prova te Deve essere secondo me questo qua in qualche caso a fianco a me qua Perché ho sentito lo sparo alla mia Lui sai dov'è eh, si è in bosca, lì dove c'è la Nella scala dov'è, eh, nella Nella casa dov'è C'è la scala M4 che spara Eh si, vedo, vedo Ma spara con te Ma i proiettili arrivavano da te Ma io sentivo che sparavano da sotto la casa qua Come direzione Non ti muovere Paolo No non mi muovo, tu intanto controlla sempre la nostra porta Io controllo la tua Io riesco a vedere la porta di Morelia Mi sono spostato Eh cosa fai, glielo dici tu Cioè, vabbè tanto la controllo anch'io Perché Lui va se ci guarda là No perché c'è anche grave Perché c'è anche grave che te lo dice Se arriva qualcuno verso di te, capito Fai il tempo Capito, un colpo io E magari gli tiro anch'io qualcosa Lo ferisco, vediamo Vediamo Comunque c'è uno con un M4 Che ho visto Cosa c'è qua lì che c'ha la doppia arma E c'è anche dei segnali Senti Eh, sparano a noi qua, dietro la porta Eh, dietro la chiesa allora Arnaldo morto Ma quello lì morto sotto di voi, Arnaldo? Sì Come sotto di voi, io sto sotto a Paolo Sì, sotto a Paolo Eh no, dalla fontana sono morto adesso Ah, allora quello è un altro Dalla fontana, ce ne hanno tre lì adesso Due mie e uno quello Ancora una frazione di secondo Porca puttana Sì, sotto a Paolo Sì, sotto a Paolo Sì, sotto a Paolo Player, player verso di voi Verso di una casa? La casa con i balconi verdi Ha attraversato Ed è sul lato della vostra casa Il problema è che adesso Dove ci sono i garage? E' visto aspetta lì, capito? Lui adesso questo qua sale Probabilmente, oh Questo qui sale adesso probabilmente Qualora circola le spalle Si apre la porta Entra E cosa che facciamo? Usciamo No, non usciamo E quello è un cesso E sta entrato qualcuno Si è entrato qualcuno A nostra casa? No La porta che vedo io qua no Vabbè ma scusa Voi siete in due Se sorvegliate la porta Qualcuno entra Lo ammazzate, no? E ma c'è questo qua Dietro sulla chiesa Che aspetta che qualcuno Apri la porta per spararci Io La chiesa vedo Ma non vedo nessuno Non c'è nessuno Dietro la chiesa? Sul terrazzino Non vedo nessuno Eccolo, eccolo Dov'è? Sto andando Di nuovo verso i garage Stai dietro la chiesa proprio E sceso giù Va dietro i garage? Si Dei garage che avete Eccoli lì Davanti ai garage Hai sparato subito? Io ho sparato Ma si è spostato Ma si è spostato Se volete scendere A chiudere la porta Io controllo Adesso non c'è nessuno Ma non è aperta? Si è aperta Io l'ho chiusa E lo so L'ha aperta lui adesso Ma chi è questo qua? No No Cosa fai Vai 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 Sbaglio sempre tasto Cazzo E' qua 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 Femelo vedere Ricarica Ricarica Merda Ricarica controlla sempre la nostra porta questo qui è qui dove c'è sta sparando vediamo poi in qualche casa alta non sono in quella casa il mio tesoro abbassato ragazzi lo vedo lo stesso vediamo dove sei figlio di puttana spara verso la finestra dove ha ucciso il suo amico solo che non ho capito se è dentro una casa qui sul molto probabilmente è dentro una casa perché ha ucciso Ornaldo allora lui è in quella casa sai quella casa che si vede da due lati dove io e te l'ombra e l'ombra puntava la porta e là dentro senti che spara ancora guardi senti alla nostra porta vero? si, ma vai guardate la mia si, si eccolo lì guardalo lì dove? va ma cammina sopra per cercare di vedere dove siamo guarda guarda sulla chiesa dietro adesso si è spostato sulla chiesa? si, dietro dietro di noi c'è la chiesa io sono giù abbassato non sono né in piedi né a metà al terzo sono giù che striscio e lui è sulla piedi adesso non so dove cazzo è andato forse ha fatto il giro di là boh occhio a birra io cateno a passi io sento dei passi qua eh c'è un player di Arnaldo no? no no si io so è uno che dice low è low è un player che sta facendo uscire proprio è sotto la tua casa lo vedi lo vedi? sta andando verso la fontana tu basta no 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 tu cura sempre la nostra porta ma quante cazzo munizioni c'ha sto finocchio? eh c'ha anche quelle di quell'altro vabbè giro ma come è che andiamo a non vederlo che stai facendo la roba da quello? cioè è quello che ho detto io hai capito? io è quello che ho detto io avevo fatto stare questo era tutto ignudo quello dovevo passare qualcun'altro eccolo garage nei garage verso di voi il rotto guarda che è entrato cazzo ha chiuso la porta porca puttana è dentro? ha chiuso la porta dove è dentro? nooo sono in coscia ho ucciso occhio ciccio ecco